Oh, dai, oh! Ci scaldiamo o volete utilizzare subito, subito, subito gli elastici? Arriva la Stepi? Salterà? La Stepi salterà? Beh, non mi avete risposto, decido io. Li mettiamo su, subito, subito, questi elastici. No? No, ci scaldiamo con l'elastico. Passo e chiudo con l'elastico. Hai già saltato sul trampolino? Hai già saltato sul trampolino? Ok, piede piatto. Perché devi pensare a schiacciare, non saltare in alto. Schiaccio, schiaccio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Su, le braccia, qui. Manteniamo l'elastico sempre in tensione, qui. Sai che cosa? Con i pantaloni lunghi. Magari, cosa possiamo fare? Perché ho paura che prendi dentro il trampolino. E ciampi, no? No? Qui. Qui, quattro, tre, due, uno, e avanti. Qui. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, ricordatevi di schiacciare, due, uno, chiudo, chiudo, in avanti, due, spalle basse, tre, quattro, Cinque, sei, sette, otto, ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e salgo in alto. Un, due, tre, quattro, iniziano a bruciare i glutei, vero? No? Poco? Solo a me bruciano? Otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, brava, tre, due, e uno. Gambe larghe, su, lato, la, ciao Steffi, due, tre, quattro, cinque, sei, non avvicino mai le gambe, sempre aperte. Tre, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e stop. Ora, manteniamo l'elastico sempre in tensione, e semplicemente due, due. Due, 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 non avvicino troppo. Otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora. Otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e singoli. Ora, due, non avvicino troppo. Quattro, cinque, sei, sette, otto, apro. Otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Come va? Possiamo farne ancora sedici. Sedici, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e otto. Ok, avviciniamo un pochettino più i piedi, rilassiamo un salto ai glutei, e semplicemente mi fermo, piego, su, qui, su, qui. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, che bruciore, e uno. Ok, ora rilassiamo un salto le gambe, togliamo l'elastico. Continuiamo a saltellare, chiaramente. Quattro, tre, due, e talloni ai glutei, qui. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora. Otto. Se volete aprire, tranquillamente, che fa caldo. Quattro, tre, due, e stop. Si scende. Questa volta, prendiamo l'elastico più leggero, e lo infiliamo sotto un piede. Ora, cosa facciamo? Con una sola mano, ro, giù, su, qui, ro, qui, su, on, giù, su, due, qui, su, tre, qui, su, quattro, qui. Su, cinque, su, qui, su, sei, qui, su, sette, qui, su, otto, qui, su, ancora, otto, qui, sette. Già, ma truffa. Piego, su, piego il ginocchio, più giù. A me non sembra. Adesso mi ha fatto perdere il conto. Tre, due, e uno. Ok, cambio. Cambio, piede. Ci siamo? Va, scendo, ro, qui, su, e ro, su, tre, su, quattro, su, cinque. Due, su, su, sei, qui, sette, su, otto, e ancora. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, sette. L'ultimo. Uno. E si ritorna sul trampolino. La chicca voleva tenere l'elastico, ho visto, dopo. salto, 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 skip, on, due, tre, quattro, cinque, sei, quante ne facciamo? Sette, otto, no. Sette, sei, cinque, quattro, tre. Fate fatica? Due, uno. E ancora. Un, due, tre. E a me che ballano gli occhiali. Devo saltare così. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Un, due, tre, due, uno. E ancora. Schiaccio bene. Giù. Due. Tre. Ancora otto. Dai, solo otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E... Oh, dai, io. Oh, dai, io. Oh, dai. Oh, dai, io. 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 Oh, dai, io.